Beh, è semplicissimo, bisogna per forza di cose dare una mano soprattutto ai minori perché sono persone che hanno davanti un'intera vita e si sono trovati da soli nei loro paesi d'origine. Quello che dobbiamo fare sta lì, bisogna identificare il prima possibile le persone e mandare a casa quelli che non hanno diritto a stare qua. Così ci sarà posto e si riuscirà meglio a gestire chi realmente ha bisogno, perché l'errore grosso è questo, nessuna distinzione tra chi ha bisogno e chi non ha bisogno in questo momento. Spero che da qui a qualche tempo si riuscirà a fare così e soprattutto spero che dopo il 4 dicembre non inizino davvero con le requisizioni degli immobili che sembra una cosa bloccata al momento solo perché c'è in ballo la campagna elettorale.